La virata, l'impatto contro un albero, poi la caduta, le immagini che immortalano l'incidente dell'ultraleggero che ieri pomeriggio intorno alle 16.30 si è schiantato in un terreno in via Poigo potrebbero essere un documento importante per capire la dinamica del terribile schianto che ha costato la vita a Claudio Bonetto. Il 63enne di Castegnero, pensionato che da qualche tempo si era appassionato al volo, era decollato assieme all'amico e pilota Davide Celotto dal campo volo di Barbarano Mossano. Dopo un volo di circa un'ora, il biposto è precipitato in un vigneto a pochi metri dalla pista di atterraggio tra i comuni di Villaga e di Barbarano. L'impatto è stato fatale per il passeggero, mentre il pilota, ferito, è fuori pericolo. Le indagini per ricostruire il dramma sono ancora in corso, ma secondo le prime indiscrezioni sembra che l'ultraleggero avesse preso una rotta diversa da quella normalmente seguita dai piloti. Di solito quando venivano su quegli aerei e scendevano, era un'altra rotta, però è passata sopra la casa, sopra la casa abbastanza basso. Ho visto praticamente che sorvolava il tetto della casa, ho detto madonna mia, ho detto quanto basso è e basta, poi non abbiamo più visto niente, abbiamo solo sentito un forte botto, subito non abbiamo pensato che fosse l'aereo e poi abbiamo visto che era quello. Ancora molti punti da chiarire sull'incidente, una tragedia che ha scosso le comunità di Villaga e di Barbarano, ma anche di Castegnero, dove Claudio Bonetto viveva assieme ai fratelli. Mi portava il pane tutti i giorni perché lo andavo a prendere, quindi finalmente è andato in pensione, non so che dire. Quando l'avete vista o l'ultima volta? Ieri mattina. L'orso di famiglia, così era soprannominato amorevolmente dai suoi cari Claudio Bonetto, un uomo che amava trascorrere il tempo a casa con i suoi familiari e in particolare con i nipotini. L'adrenalina che dà il volo e il piacere di trascorrere del tempo che nel suo amico pilota lo avevano spinto più volte ad unirsi a lui. Davide Celotto, sessantenne di Longare, è descritto dai conoscenti come pilota piuttosto esperto con molte ore di volo alle spalle. Arianna, nipote di Claudio, che preferisce non farsi inquadrare dalla telecamera, lo ricorda così. Viveva per la famiglia, era veramente per i podisti, per le gare, ha viaggiato tanto, adesso era in pensione e si godeva la famiglia e la casa.